Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi parliamo di bici. Abbiamo chiesto ai ciclisti però, uomini e donne, quante bici hanno a casa, quante bici possiedono. E poi diremo anche noi quante bici abbiamo a casa e quante bici possediamo, perché non è proprio la stessa cosa nel nostro caso. Andiamo a vedere cosa hanno risposto. Quante bici hai a casa? Quattro, cinque bici, più o meno. Tutte da corsa? No, anche mountain bike. Bici, la mia prima bici, per esempio, quando ero piccolino, che l'ho tenuta come ricordo. Sì, particolari. Un pezzo da museo? Sì, non vale niente, però è più una cosa personale, sì. Due. Quali sono? Una da crono e una da allenamento. Da passeggio? Quella c'è la mia mamma. Me la prendi ogni tanto? Sì, ogni tanto sì, sinceramente. Quando posso andare a farmi un giretto è bello, anche in borghese, diciamo. Oddio, siccome da un po' di anni ho un po' la passione del vintage, se lo sa qualcuno a casa magari ho il bici un po' sparsi in giro, saranno una trentina. Una trentina? Sì, sì. È di quelle con cui ho corso una sola? Quattro. Tutte da corsa? No, no, metà e metà. Due, due. Due mountain bike e due strade. Sono le mie tre. Se devo considerare anche quella di mia mamma, mia sorella e mio papà, arriviamo cinque, sei. Bici che puoi utilizzare? Dai, c'è quella di mia mamma che è più o meno alta come me, quindi siamo a quattro. Quante bici hai a casa? Allora, del team due. Poi c'ho una mia fixed, così, che mi sono fatta io. Però non le uso mai. Sono parcheggiate là? Sì, sono lì per bellezza, quando entro in caldo, bella questa bibella. La bici è la mia passione. Devo fare il conto, forse sono troppo, ho perso il conto, almeno cinque o sei. Tutte da corsa? No, no, ho tutte le specialità, mi manca giusto l'elettrica. Due, allenamento e crono. E da passeggio? Il mio papà ha un negozio, quindi ne ho quante voglio. Tre. Quali sono? Strada, cronometro, mountain bike. E da passeggio niente? C'è, ma... Una graziella? Quando sono a riposo la evito a usare la macchina. Cinque bici? Non tutte con il nago. Ho bici vecchie di quando ero piccola. Tre, quattro. Tutte da corso o anche da passeggio? No, una è da ciclo cross, vecchia. E poi c'ho due da strada, poi vabbè c'ho quella da crono. E poi ce ne sono, mi sembra una da passeggio, ma di mia mamma più che mia. Quante biciclette hai a casa? Io nessuna. Tra mio fratello e mio papà ne avranno circa una sessantina. Tu hai quella per allenarti? Io ho solo la mia, solo la mia per della squadra e quella che ci viene concessa dalla squadra. Ah no, anche una bianchivecchia, una bianchivecchia che ci farò l'eroica tra un paio di anni. La sto preparando e comunque una sessantina di bici in totale. Due, tre. Tutte da corsa? Una da crono e due da strada. Da passeggio niente? Una da passeggio. Poi andare a fare la spesa? Andare a fare la spesa. Due, una da crono e una da strada. Da passeggio niente? No, però sto pensando di comprare un'elettrica. Per fare meno fatica. Mia o una? Ma da passeggio niente? Sì, da mountain bike, da passeggio. Quindi quante sono in tutto? Una ne ho. Ho una mountain bike, che usano sia per mountain bike, da passeggio non ho tante bici. E quella per allenarti? Sì, ne ho di più mia figlia. Mia figlia ha più bici di me. Più viziata di te? Eh no, perché sai cresce, però quelle piccole le tengo tutte, dunque ne ha tre, quattro. Cinque. Tutte da corsa? Sì, sì, non ho mountain bike. Non hai da passeggio? No, zero. Solo bici mie. E per fare la spesa cosa usi? La macchina. Oddio, tante. Perché anche il mio compagno è un ciclista, adesso abbiamo anche i tandem a casa, quindi siamo pieni di biciclette. Poi la graziellina per andare a prendere il gelato, quindi direi che ce ne sono tante di biciclette. Adesso ho a casa anche la track bellissima del Tour de France, quindi una in più. E quanto uscite fai in tandem col Moroso? No, io col Moroso nessuna, non ci vado dietro di lui, ci va il ragazzo non vedente e quindi diciamo che anche lui è intrapreso questa bella esperienza, vediamo. Giorgione, quante bici hai a casa? Ma se dico boh, sono una brutta persona. Non so, quante bici hai? Cioè, magari anche non di tuo... Non lo so perché sono una brutta persona. No, sono una brutta persona, sarai un po' invidiato, Giorgione. Allora, che possediamo? Noi abbiamo delle bici che abbiamo incomodato d'uso, non sono le nostre. Nostra, cioè mie personali non neanche una. Vabbè, quelle da passeggio, abbiamo detto anche, abbiamo parlato anche di quelle da passeggio. No, no, non le ho. Una, ce l'avrai una bici da passeggio? Ne avevo una, mi portavo la figlia a scuola, me l'hanno chiesto indietro adesso, che usavo la Kenio. Devo organizzarmi con un'altra bici adesso. Noi abbiamo bici ma, sempre in cui l'altro tu, non sono mai le nostre, quindi ogni tanto ce le richiedono indietro. C'è un'altra. Magari passa anche un mese senza, che abbiamo la bici, come è successo anche a te. Sì. Un mese senza avere la bici. Beh, ma no. Una c'è sempre. Ne abbiamo tre brand, come sapete, Kenio, Colnago e Pinarello, quindi di solito ne abbiamo una di ogni brand per ognuno di noi, che girano. A volte ne abbiamo anche più di una per ogni brand, a volte un brand non c'è ancora la data per entrambi, però diciamo che non ci mancano le bici sicuramente. Sì, io adesso oggi a casa ho una bicicletta soltanto, una Colnago, più una da passeggio, e un'altra che è una mountain bike, che sono convertita in bici da passeggio, però manca la sella. Quindi due bici tue. Manca la sella, quindi è la parcheggiata. È molto che non è sella. È là. Ti piace così? Mi piace senza sella. Porca miseria. Comunque sono in tutto tre biciclette a disposizione, poi vabbè, per la passeggio lo usa anche mia moglie, quindi basta. Chiediamo agli impattati, quante biciclette hanno a casa? Considerando anche le bici da passeggio. Tutte quanto? Tutti i mezzi a due ruote, non motorizzate. Anche le bike, le bici delle bambine, tutto. Vabbè, contiamo tutto. Gruppo familiare? Cattare la testa al toro. Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere like, commentare. Non c'è resta che dirvi. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.